E' venuto che impegni la moto per essere pure fatti, sei brutto, ti metti lo dritto, metti in terza e parti, ce la fai? Dai che vai a carta stacco a me, o ci vuoi stacco divertendo di questo, è umano che non ci stai riprendendo, almeno siamo strussi. Questa qua va su YouTube, questa va su YouTube sicuro, mi sono messo anche in posizione, questa va su YouTube sicuro. C'è gufo uno, c'è gufo due, anche tre, sono la. Ma Pietro l'ha fatta. Sì, Pietro l'ha fatta anche prima, si gasa quando riesce a fare. A zero eh. Vedi che se non mette tutti i dritti... No, così continua come l'hai fatta a te. Pietro, che succede oggi? Andate a giù? Lasciate ristare le moglie la mattina. Non state sulla moto. State sulla moto, venite su. Lasciate ristare le moglie la mattina, lasciatele pisciare da sole. Allora si messa giù la saponetta. Presto, non la fai più. Presto, non la fai più. Devi dargli sotto, poi molli un attimo. E poi qui puoi dare ancora. E poi riapri. Se apri lì non vai più. Devi aprire in quei tre metri lì. Mi sembrava più facile da qua. No, ma vieni su, tranquillo eh. Devi dargli la velocità prima. Ma dai qui non tieni, vedi che scivoli lì. Devi dargli la velocità prima. Oh Fred, ma che non devi andare giù di là. E arrivi qua. Vai Fred! Farsi sognare Fred, prendilo al mondo. E chi è quello? Dai Alice, ce la fai? Non te la senti male. Dai che c'è il tele a parte. È una salita, ce la fai eh. Ale, mettiti dritto e metti la terza. E io ho da casa. Hai capito? Mettiti dritto. Terza. Devi dargli un po' sotto, all'inizio devi dargli un po' di solo sotto. Dai Pietro. Ti sono fatto anche cambiato. Eh? Hai anche cambiato qua. Quanto ti è stato giù piede la pedale hai cambiato? Mentre qua c'è quello non vai, è quello che non ci credi? No, l'ho fatto un'altra volta. Ma te la punto. Eh, stamattina. Il primo colpo. Oh, già ti ha portato la moglie più caldo. Ehi. La nonna ha detto, portami te. Sto giocando io. Ti vorrei vedere. È una salita del cazzo. È un po' di proietti. Aspetta, questa è la pena passa. Metti un sasso. Potremmo partire? Il primo colpo. È una salita. Ehi. 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 Ehi.